e non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità o quale comunione tra la luce e le tenebre e quale accordo fra Cristo e Beliar o quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele seconda lettera di Paolo ai Corinzi capitolo 6 versi 14 e 15